Salve a tutti, io farò in questi minuti un elogio della collaborazione. L'elogio è un discorso in cui si decantano le virtù di qualcosa o di qualcuno. Ecco, qui non c'è una persona di cui io parlerò, non c'è neanche un oggetto, ma è qualcosa di immateriale, ma è concreto dentro di noi, perché la sentiamo, perché è un processo sociale la collaborazione, è un modo di interagire con le altre persone. Stamattina l'abbiamo sentita citare, fra l'altro. La particolarità è questa, che viviamo noi tutti un'epoca in cui alleniamo solo uno delle nostre due braccia. Usa questa immagine, uno dei nostri due muscoli. E quello che alleniamo di più è il braccio e il muscolo dell'individuo e della competizione. Quindi farò un elogio della collaborazione per dire che abbiamo bisogno di allenare anche un'altra parte, perché è meglio quando le due braccia sono ben bilanciate. Viviamo un'epoca in cui siamo continuamente sollecitati a allenare una parte. Il fatto di vivere in una società individualista non è di per sé una cosa brutta. Anzi, vorrei togliere, se me lo concedete, quel sapore moralistico della parola individualista, perché è una parola che ci richiama qualcosa di negativo, come se fosse qualcosa di brutto, già appunto a sentirlo dire, e spesso è utilizzato così. Ecco, io vorrei togliere appunto questo sapore e usarlo in termini sociologici. Tant'è che c'è proprio un sociologo francese contemporaneo, che si chiama appunto Alain Renberg, che dice che noi viviamo in una società sociologicamente individualista, nel senso che è un momento storico, un'epoca, in cui conta molto di più l'individuo della collettività. E questo di per sé non è una cosa brutta, è stata una conquista, una conquista del rinascimento, dell'umanesimo. Tutti noi abbiamo molta più cura di noi, siamo molto più attenti a ciò che ci fa felice, a ciò che ci piace, quindi siamo profondamente individuati. Quindi l'individualismo è un tratto della società contemporanea e non è detto che l'individualismo sia di per sé egoismo. Noi possiamo essere individualisti, nel senso di aver cura di noi, e altruisti. Le due cose stanno insieme, non vanno separate. Questo è importante, se no ci areniamo. Quindi dobbiamo attraversare questi confini, queste categorie. Quindi viviamo una società così. E anche una società in cui prevare la competizione. Anche questo non vorrei mettere in termini moralistici. Io ho sempre amato lo sport, mi piace competere. È bella l'elemento della competizione perché ti tira fuori il meglio di te, ti induce a tirare fuori il meglio di te. Ecco, semplicemente vorrei elogiare qualcosa che c'è un po' meno. In una società in cui c'è molto questo, di cui sappiamo anche i costi di tutto ciò. Il costo dell'individualismo, come quando ogni cosa diventa troppo, diventa ipertrofica, come quegli organi che si gonfiano, è la solitudine, l'angoscia di vivere, il male di vivere. Uno dei grandi miti dell'individualismo come felicità individuale è ritrovarsi soli con se stessi. Quindi abbiamo bisogno di allenare l'altra parte. Quello che parla di collaborazione è di solidarietà, impegno con gli altri. Ma com'è fatta esattamente la collaborazione? Che cos'è che ha di interessante per noi? La collaborazione è un processo sociale che avviene con altri, non lo facciamo da soli. E quindi possiamo uscire dall'individualismo come individui, ma anche dall'individualismo come organizzazioni. Io lavoro in campo sociale e cerco di facilitare il fatto che più persone, più organizzazioni possano cooperare, collaborare. Perché? Perché questo? Non perché è giusto in sé, ma perché è più efficace. Perché abbiamo problemi sociali, contemporanei, sfide che abbiamo davanti a noi, per cui ci serve quello che tanti anni fa un filosofo, alcuni anni fa la nascita di internet, un filosofo francese, Pierre Lévy, appunto, chiamava intelligenza collettiva. Cioè l'affermazione che, molto ben sintetizzata, nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa. Quindi quando abbiamo di fronte a noi un problema complesso, l'approccio individualista, cioè fatto di una singola persona, o di una singola organizzazione, o anche di una singola professione, dal riscaldamento climatico, alla denatalità, al traffico, appunto ai problemi sociali, alla povertà, una sola intelligenza, una sola disciplina non ci basta. Non è sufficiente. Ci serve l'intelligenza collettiva. Quindi abbiamo bisogno che queste cose, appunto, dialoghino. E come avviene? Avviene sostanzialmente con cinque ingredienti di questo cocktail, diciamo, di questa mix. La prima è una qualità intensa di ascolto. La collaborazione si nutre dell'attesa del punto di vista dell'altro. Quindi dobbiamo attraversare il confine del nostro io e decentrarci. Secondo elemento fondamentale per un'esperienza collaborativa è il fatto di approssimarsi a un punto di vista diverso tentando di armonizzare gli interessi, che vanno mantenuti diversi. Perché il rischio è che noi riusciamo a collaborare solo con coloro che la pensano come noi. Ma la vera sfida della collaborazione è quella di, appunto, collaborare con chi è diverso da noi. Per far questo c'è un tempo dell'attesa. L'altro deve entrare dentro di noi. L'altro come punto di vista, come visione del mondo. Il terzo ingrediente è la tolleranza. Abbiamo bisogno di legittimare l'esistenza di un punto di vista altro. è anche di tollerarle, anche qui in termini cognitivi, sopportare il rumore, il fastidio di un'idea dissonante. Ecco, se noi riusciamo a reggere l'idea, appunto, questo fastidio, riusciamo ad entrare in contatto anche ad attraversare i confini dei nostri schemi culturali, dei nostri modi di vedere il mondo con cui siamo stati educati, e entrare in contatto verso un altro. Il quarto ingrediente è il coordinamento di azioni e di attenzioni. Perché la collaborazione, sentite la parola, è soprattutto una azione. Non è qualcosa che diciamo di fare, è qualcosa che riusciamo a fare. E quindi il fare, l'azione, è il banco di prova della collaborazione. E come funziona questa azione? Ecco, funziona come una danza. La collaborazione è una interazione in cui ci sincronizziamo, come hanno fatto i musicisti prima, o come avviene con un'orchestra, o con una danza a due, come nel tango. C'è una sincronizzazione di menti e di corpi. Tutti noi l'abbiamo sperimentata, quindi sono sicuro che dico qualcosa che, appunto, in parte vi risuona. Ma la vera sfida è quella di riuscire a farlo con quelli con cui ci viene meno facile. Ed è una fatica tendenzialmente ben ricompensata, perché si scopre nuovo, si inventa altro, si produce bellezza, si sta meglio in una coppia, in una famiglia, appunto in un'organizzazione, in un ambiente di lavoro, in una comunità. Se riusciamo a compensare questo eccesso di individualismo e di competizione, mitigandone gli aspetti meno nobili e andando a rinforzare questo aspetto collaborativo. Da ultimo, quinto elemento, quinto ingrediente, è che la collaborazione può essere facilitata se l'ambiente in cui si realizza, la cultura, l'organizzazione, la legittima da un punto di vista formale. Noi abbiamo la Costituzione, la nostra Costituzione, se uno la legge da questo punto di vista, è una Costituzione che dice queste cose, ma anche le piccole Costituzioni quotidiane, quelle del modo in cui funziona la nostra famiglia, in cui si collabora a fare le cose, o del nostro gruppo di amici, in cui si collabora, o anche nel mondo del lavoro. Ci sono delle aziende che l'hanno capita talmente e tanto bene che mitigano, mitigano proprio con le regole gli eccessi della competizione perché sono antiproduttivi, non sono efficaci. Quindi la collaborazione da questo punto di vista è anche conveniente, è anche un vantaggio competitivo. Ecco, potremmo usare questo paradosso. Se un'organizzazione riesce a collaborare, riesce a competere meglio con altre organizzazioni. Pensate per le piccole aziende italiane, per esempio, che sono molto piccole, frammentate, appunto si usa dire che serve una cultura della collaborazione di rete, fare sistema, sono queste espressioni. Quindi questo è appunto l'elogio che volevo fare, l'invito a poi esercitare questa cosa nella nostra vita, nella nostra vita personale, lavorativa, perché di questo credo ci sia un gran bisogno. Ci sia un gran bisogno. Ultimo ingrediente, ultima cosa che mi sento di dire, da questo punto di vista, è l'attitudine proprio a questa cultura collaborativa. Qual è l'elemento che possiamo riassumere in un motto? Che è questo. Non collaborare solo se l'altro collabora. Molte persone usano questa espressione. Ma io collaborerei col mio vicino, il mio collega, il mio vicino di casa, con l'altra realtà, l'altra azienda, se lui, se lei, se loro collaborassero. Ecco, chi studia come me la collaborazione da molti anni e ha dentro questi processi, sa che la collaborazione funziona per anticipazione. Per anticipazione. Quindi il motto qual è? Se vuoi collaborare, devi ragionare in questo modo. Collabora tu, affinché l'altro collabori. Quindi dai tu il primo spazio, apri tu la danza, e tanti studi nelle neuroscienze ci dicono fin dalla prima infanzia che chi apre i giochi collaborativi ha una buona probabilità di avere poi un gioco appunto collaborativo come risposta. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.